A due amiche si incontrano, era parecchio tempo che non si vedevano, una delle due gli fa all'altra dicevo ma te vedo inforbissima, ma te sei dimagrita e l'altra gli fa eh sì, mi sono dimagrita sì, ho perso 15 chili mamma mia e come hai fatto? Eh ho scoperto che mio marito mi tradisce, e beh ancora ne ha lasciato e no già che ce sto aspetto da perdere in altri cinque